Scusate, maresciallo? Ehi? Scusa. Sì? Cioè, sono due ore che state lì girate di spalle e volevo sapere, ma chi state aspettando? Ah, no, vabbè, la parlo io o parli tu? No, per me? Quattro a me, parlo a me. Allora, dunque, signorina, praticamente noi stiamo aspettando il primario, perché stiamo svolgendo delle indagini preliminari sul personale della struttura, ecco. Il primario è in riunione. E' quello, non è per me che si muove, cioè, fa notte, e quindi potevate chiedere prima, perché ne sareste già tornati alle case vostre. Allora, ho capito. E che facciamo? Allora, chiediamo a lei. Chiediamo a lei? Parlo io o parli tu? No, vabbè, tu, per te. Guarda qui. Allora, chiedi. Intanto vorremmo sapere, in questa clinica quante persone lavorano? Ehi, quante persone lavorano in questa clinica? Una su cinque. Uno va a prendere il caffè, uno legge il giornale, uno si va a sprecare l'aria, a fare una passeggiata fuori, dice, noi siamo convenzionati quella regione. Grazie. Grazie.